Regione Toscana, il Consiglio regionale. Consiglio regionale straordinario sul tema dei vaccini, chiesto dalle opposizioni, con all'ordine del giorno anche la richiesta di sfiducia verso l'assessore alla sanità, la maggioranza compatta difende in aula l'operato della Regione Toscana, con il presidente Gianni che ha concluso il dibattito evidenziando le difficoltà oggettive della macchina vaccinale per l'arrivo di poche dosi nel primo trimestre del 2021, rispetto a quanto previsto a inizio dell'anno. L'assessore Bezzini, che ha aperto l'aula con la sua relazione, ha indicato come la Toscana in questi ultimi giorni abbia incrementato il numero di vaccini inoculati e si pone l'obiettivo di raggiungere entro maggio il 30% dei cittadini in sicurezza, completando la vaccinazione degli over 80, dando priorità agli anziani di età compresa tra 70 e 79 anni e portando avanti la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ampio il dibattito con gli interventi delle forze di opposizione che hanno criticato in maniera forte l'operato della Regione Toscana, soprattutto per la mancanza di vaccinazione degli over 80 e delle categorie fragili. Nell'ambito della seduta è stata istituita la Commissione speciale per il sostegno, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale, proposta dalla Lega e approvata dal Consiglio con voto contrario solo del gruppo di Fratelli d'Italia. Ne faranno parte 10 consiglieri, 6 di maggioranza e 4 di opposizione e sarà operativa per i prossimi tre mesi. Non mi sfuggono le grandi preoccupazioni che sono emerse nella società toscana rispetto ad alcuni indicatori che fanno riferimento all'andamento della campagna vaccinale nella nostra regione, in particolar modo uno, e rispetto a queste preoccupazioni abbiamo il dovere di farsene carico con grande senso di responsabilità e con trasparenza. I dati evidenziati sul sito del governo questa mattina alle ore 6 ci consegnavano un andamento della campagna di vaccinazione che per la nostra regione esprime un più 6% rispetto alla media nazionale, un più 6% in termini di ritmo di vaccinazione. C'è un dato che vorrei sottolineare come particolarmente significativo, che testimonia anche con numeri più dettagliati il ritmo di vaccinazione che abbiamo tenuto nella nostra regione. Noi abbiamo, diciamo, 20.665 persone vaccinate ogni 100.000 abitanti, 20.665. La media nazionale della vaccinazione ogni 100.000 abitanti è 18.866. Ad oggi noi siamo in un quadro che vede un potenziale già in essere di vaccinazione nella nostra regione tra 25.000 e 30.000 somministrazioni quotidiane, equivalente a un potenziale di somministrazione di un milione di dose circa al mese. Stiamo lavorando per definire nuove intese con nuovi soggetti, ripeto, in grado di implementare ulteriormente verso 40-50.000 dosi di somministrazione giornaliera nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Penso alla questione ovviamente degli over 80, sulla quale ovviamente voglio spendere alcune parole. C'è un ritmo crescente di vaccinazioni, la settimana scorsa abbiamo, sono state fatte circa 80.000 vaccinazioni tra prime e seconde dosi agli over 80. Lo stesso avverrà in questa settimana e stiamo lavorando con la medicina generale, con eventuali elementi di supporto, diciamo, sul quale si sta riflettendo anche da parte della macchina regionale e di quella delle aziende, affinché con questa accelerazione si rispetti l'obiettivo che ci siamo dati, che è quello di terminare le prime somministrazioni entro il 25 aprile e poi entro la prima metà di maggio, chiudere con tutto il richiamo. Per quanto ci si possa impegnare, noi abbiamo perso del tempo prezioso per vaccinare quelle categorie che sono le più esposte e le più fragili. Intendo gli over 80 e intendo le persone estremamente vulnerabili. E questo io lo voglio dire chiaramente perché se c'è stata un'accelerazione negli ultimi giorni, è dovuto anche la sollecitazione da parte nostra e di tutte le opposizioni nel cercare di far meglio. E questo è secondo me un valore aggiunto che le opposizioni possono portare alla discussione, perché fino ad oggi purtroppo quella collegialità di cui parlava l'assessore Bezzini non c'è stata. Non c'è stata nel momento in cui la Commissione Sanità ha approvato una proposta di risoluzione che ha firmato anche il Vice Presidente della Lega, Andrea Uluti, però è stata disattesa nei fatti. Non c'è stata mai nelle decisioni prese, tanto che spesso noi siamo trovati a dover rispondere a cittadini estremamente arrabbiati e hanno ragione di essere estremamente arrabbiati quando non riuscivano a prenotare sulle varie piattaforme o quando non sanno quando arrivano i vaccini che possono essere loro destinati. Non mi sembra assolutamente una giustificazione dire che la Toscana è una regione molto basca e che ha zone montane difficilmente raggiungibili, perché i problemi nell'organizzazione della campagna vaccinale si hanno e si sono avuti anche a Firenze, anche nelle grandi città ed è sotto gli occhi di tutti, anche di tutti noi consiglieri che quotidianamente veniamo contattati da cittadini arrabbiati. Lei dice, Assessore, che c'è stato, che c'è voluto tempo, c'è voluto tempo per organizzare la macchina delle vaccinazioni. Ecco, questa è una cosa che non è ammissibile, perché siamo da più di un anno in pandemia e questa cosa andava pensata per tempo. Il problema, secondo me e secondo molti cittadini, è che si è usato questo tempo per far campagna elettorale, per decidere determinati posti, determinati poltrone e soprattutto non sembra ci sia stata comunicazione fra chi era prima Assessore e lei, perché altrimenti tutto questo tempo non sarebbe stato necessario. Vede, lei diceva, abbiamo somministrato in Toscana una media vaccinale del 6%, lei dovrebbe ricordare tutti i dati però, Assessore, non solo il dato della vaccinazione che è il 5,8%, quindi in media piena italiana. Dovrebbe ricordare anche la vaccinazione degli over 80. Noi siamo la penultima regione per la vaccinazione degli over 80. Abbiamo vaccinato il 22% con la prima dose e soltanto il 28% con la dose complessiva. Questo dovrebbe ricordare. Vede, io starò in un intervento facendo alcune domande, cercando di non essere polemico, ma alle quali mi piacerebbe avere risposta. Del perché sugli over 80 dovrà spiegarcelo, ma dovrà spiegarcelo anche per bene. Certo non ci basta quello che lei oggi ci ha detto all'interno della sua relazione. Come non ci basta quello che ha detto sui medici di base? Ha rivendicato una scelta, salvo poi a essere smentita in un'intervista, o perlomeno, a meno che io non mi sbagli, di oggi alla Nazione, braccio di ferro a stasera con i medici di famiglia. Sembra che l'indirizzo del Presidente Gianni sui medici di famiglia sia diverso da quello che lei ha raccontato e rivendicato in quest'Aula di Consiglio regionale. Ha detto abbiamo fatto tardi, abbiamo perso tempo, e abbiamo perso tempo perché occorreva fare da un lato formazione e dall'altro riunioni. Ma siete sicuri di aver fatto la scelta giusta? Perché vede, Presidente Sostegni, addirittura lei ha detto possiamo aver ritardato di 15 giorni. Io non voglio fare un conto macro, ma quei 15 giorni significano 29.985 ricoverati e 615 morti. Questo significa i 15 giorni di ritardo nella vaccinazione degli over 80 anni. Io me lo sono un po' studiato, quel libretto sostanzioso che ci fu consegnato e nel quale si legge bene quelle che sono le categorie che rispondevano esattamente al piano nazionale. E si parlava esplicitamente di forze dell'ordine. Poi però nell'intervento l'assessore per la prima volta citò, io me ne sono accorto oggi perché all'epoca, un po' come oggi, una relazione molto lunga, ci era sfuggito, gli uffici giudiziari per la prima volta, cosa che non si ritrovava nelle direttive del governo. Ebbene, sono andato a vedere gli uffici giudiziari, perché potrei sbagliarmi dalla Corte Costituzionale in giù, sono quelli che in qualche modo fanno riferimento alla struttura dell'ordinamento giudiziario, cioè gli uffici pubblici, quindi le corti d'appello, i tribunali, i giudici di pace, tutta questa roba. Poi in realtà sono spuntati gli avvocati, categorie di cui io faccio parte, lo dico subito e lo confermo, non mi sono vaccinato perché l'ho ritenuto un errore, ma come ha scritto l'Ordine degli Avvocati di Firenze, un errore che non è stato frutto della richiesta degli avvocati, ma c'è scritto nero sul bianco, frutto di un'interlocuzione avvenuta fra la Regione Toscana e i vertici della Corte d'Appello. Io vorrei sapere, Presidente Gianni, ma chi ci ha interloquito con i vertici della Corte d'Appello? Si può sapere? È evidente che se vengono vaccinati gli amministrativi il cittadino si aspetta che comunque non siano i smart working. È evidente che se vengono fatte delle riserve i cittadini si aspettano pari dignità e pari diritti nell'accesso alle riserve. E non può essere un giornalista famoso ad avere una corsia privilegiata o l'agevolazione di un contatto diretto ad accedere a quella riserva che supera ogni livello di priorità, purché quest'Aula tutta ha chiesto comunque che venga fatta la riserva perché appunto non si doveva disperdere un vaccino. Quindi io credo che ci sia un quadro complessivo di responsabilità. È evidente che è graduato. Noi dobbiamo non difendere esclusivamente in termini numerici e aritmetici quanto fatto o quanto verrà fatto. Saranno i cittadini a giudicarlo. Abbiamo tempo cinque anni. Non è questa la seduta nella quale ciascuno di noi è chiamato a dare un giudizio né sull'assessore, a mio avviso, né sul Presidente, né su ciascuno di noi. Noi abbiamo il dovere morale di avere l'intelligenza e l'onestà culturale di dire dove abbiamo sbagliato ciascuno di noi per avere l'intelligenza per provare a vedere se nei prossimi mesi non commettiamo più quegli errori, assumendosene ciascuno di noi un pezzo di questa responsabilità. Per me tanti stimoli, tante indicazioni e nella dialettica fra maggioranza, opposizione, nello spirito di tutti io colgo gli aspetti costruttivi che saranno sicuramente raccolti. Anche con quello che poi il Consiglio si darà come strumento legittimamente per favorire, diciamo così, una collaborazione. Devo dire che io in primo luogo voglio ringraziare l'assessore Simone Bezzini per il suo intervento puntuale, per il suo lavoro quotidiano, per la sua dedizione 24 ore su 24, per la capacità che ha avuto, al di là delle situazioni e delle scelte che in questo clima possono essere state assunte, di svolgere fino in fondo il suo ruolo. All'inizio di gennaio le cronache dei giornali, guardavo l'altro giorno una tv che le riproponeva, parlavano entro i primi tre mesi di 28 milioni di dosi di vaccino e oggi voi andate sul sito del governo e vi rendete conto che in Italia sono somministrate poco più di 11 milioni. Passare da 28 a 11 milioni significa che fare programmazione, pianificazione è assolutamente difficile, se non impossibile. Significa cioè che tanti aspetti che oggi vengono visti col senno del poi, nel momento in cui avessimo avuto i 28 milioni di dosi di vaccino, probabilmente non ce ne saremmo nemmeno resi conto perché avremmo potuto dare soddisfazione a tutte le aspettative che vi sono nella popolazione e in tutto quello che è un buon governo da un punto di vista della velocità della campagna vaccinale. Quindi una Toscana che complessivamente esce, e lo dico perché ho colto in tanti di voi in buona fede un grande orgoglio di essere toscani, di vedere il nostro sistema, ecco io vi posso dire che errori, aspetti che potevano essere in altro modo e sono stati anche differentemente a quello che a me piaceva potessero essere, ci sono stati, ma complessivamente la Toscana si sta caratterizzando, e lo riconosceva anche ieri il generale Figliolo, come una delle regioni che sta mostrando efficienza, tempestività, efficacia, cioè nella considerazione del numero dei vaccini che è possibile far arrivare in Toscana.